3 ottobre 1863 Il presidente degli Stati Uniti d'America, Abramo Lincoln, designa l'ultimo giovedì di novembre come giornata del ringraziamento. Il Thanksgiving Day viene fissato nel calendario americano al termine della guerra civile. La celebrazione ha origini antiche, con essa infatti si rievoca la gratitudine dei padri pellegrini sbarcati nel 1620 sulle coste del Massachusetts a Dio per l'abbondanza ricevuta nel nuovo territorio e verso i nativi per la loro collaborazione.